Siamo qui con un papà separato, giornate così portano all'opinione pubblica un fatto grave? Beh, certo, voglio dire, la giornata di oggi è importantissima, cioè la festa del papà ed è giusto che tutti i papà si rendano conto che ci sono le possibilità per sostenerli dal punto di vista abitativo. Questo spreco non deve esistere più nel futuro e dobbiamo a breve risolvere l'assegnazione di questi appartamenti.